Bene. Allora, benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto, insomma, in questo ciclo di incontri che facciamo qui in Craft. E questo ciclo di incontri lo facciamo con... Vediamo un po'... Giliola c'è tra l'altro qua? No, non c'è. Allora, lo facciamo qui a Edu3D, quindi diciamo brevemente tra poco cos'è Edu3D e poi presentiamo insomma quello che vorremmo fare con questo corso e a chi è destinato e come pensiamo di portarlo avanti. Allora, molto in breve, quindi Edu3D nasce dall'esperienza anche fatta in Edmondo ma anche da altre parti in Second Life, è composta da volontari e da insegnanti. Cerchiamo di fare una comunità di pratica, come la chiama Giliola, in cui più che insegnare le cose in maniera standard e formale, cerchiamo di condividere le cose che facciamo nell'ambito, come avete visto tutti, dei mondi virtuali, delle nuove tecnologie e anche in alcuni casi del realtà virtuale, cioè quindi proprio visori o altre cose. Quindi il nostro interesse è riuscire a fare in modo tale che tutte queste risorse tecnologiche che erano impensabili anche solo fino a 10, 15, 20 anni fa, possano diventare una parte interessante e importante anche da presentare e da far lavorare i ragazzi a scuola, insomma, diventare proprio un modo per permettere ai ragazzi di appassionarsi sia ai mondi virtuali in quanto tali, ma anche ad altre materie che possono essere insegnate tramite i mondi virtuali oppure altre moltissime competenze che possono essere usate nei mondi virtuali, quindi competenze di architettura, di modellazione, di creatività in generale e poi da lì abbiamo anche creato negli ultimi mesi anche proprio il concetto di prosumer, si chiamava così? Che mi confondo, sono un po' dislessico, no? Che era quello che abbiamo poi portato anche a Piacenza con chi c'era? C'era Mario, no? Quindi c'era Mario ma anche Michelangelo, insomma, hanno fatto questo lavoro. Prosumer vuol dire producer e consumer, cioè praticamente la figura di persone che sono in grado non soltanto di consumare delle creazioni, delle cose fatte da altri, pensate a quelli che giocano ai videogame o vedono un film e la differenza è che mentre si vede un film o si gioca a un gioco o si fanno o si vedono le cose fatte da altri, si impara anche a farle quelle cose, quindi diventare attori in primis di quello che poi si vorrebbe consumare e quindi poterlo poi insegnare anche ad altri e farlo esperire, insomma fare delle esperienze che siano condivise. Quindi tutto questo pensando che queste tecnologie siano sempre più importanti, sempre più coinvolgenti, sempre più immersive e che quindi nel futuro si potrà pensare di fare proprio delle classi, proprio in realtà virtuali con degli un mini avatar come noi, ma anche costruendo tutto un mondo, un mondo immaginario e quindi in realtà noi poi insegniamo anche a fare, a costruire con Blender, a costruire qui in second life on OpenSIM e quello che noi vogliamo fare adesso in questo corso qua è quello di darvi le basi per lo scripting. Quindi, prima ho fatto un po' di domande, ho visto un po' di risposte, però faccio una domanda extra, che è quello, quanti di voi sanno costruire un cubo qui in OpenSIM? Quindi vediamo se mi rispondete in chat. Siete tutti in grado di costruire un cubo? Bene, allora, a me piace, intanto mi sembra di essere tornato a quando faccio la lezione in second life, sperando che non venga troppo lag, vi chiederei di dimostrarvi che sapete fare un cubo. Quindi se riuscite a costruire un cubo davanti a voi, questa è la prima lezione che facevo sia di building che di scripting, diciamo, la prima cosa è saper fare un cubo. Chi non lo sapesse ovviamente è una cosa molto semplice, basta in Firestone andare in un punto per terra, fare tasto destro e poi cliccare su Crea e si ottiene, e poi si compare questa panchetta e poi si clicca e compare il cubo. Ora, perché vogliamo fare il cubo? Perché adesso tra poco faremo un pochino di magie, di scripting sul cubo. Quindi se il cubo diventa il nostro esempio, insomma, sulla base, su cui andremo a scriptare, ok? Allora, però prima di scriptare, volevo fare un piccolo, una piccola, diciamo, introduzione su quello che è un cubo. Voi vedete qui un cubo, ma ad esempio quel cubo lì ha tante altre cose. C'è un nome, quindi possiamo cambiargli nome. Ad esempio se questo cubo gli diciamo, io di solito nelle mie lezioni dicevo chiamatelo col vostro nome, quindi col vostro cubo, qui metto Sarazzar come nome, e quindi così ho cambiato il nome del cubo, quindi il cubo c'è un nome. Gli altri passando sui cubi più o meno riescono a, diciamo Andamaria, dunque Andamaria, zoom, e l'unica cosa appunto di, quindi si collega alla cosa, e poi, ah perfetto, perfetto. Allora, il cubo, dicevo, andate in modifica e osservate alcune delle caratteristiche che c'è il cubo. Non le faccio vedere tutte perché non è un corso di building, ma la cosa che mi interessa, che è più interessante di tutte, sono per esempio le texture. La texture, vedete che c'è un colore, quindi voi potete cambiare il colore del cubo, quindi adesso il colore del cubo è sul bianco ma possiamo farlo rosso. Possiamo cambiargli la texture, quindi la texture adesso vedete che c'è un legno ma potete metterla vuota, diventa un cubo rosso. Quindi, per ipotesi, voi volete, potete avere un cubo e quindi l'invito che vi faccio è di cambiare il colore del vostro cubo con un colore qualunque che mi viene in mente fra quelli. Ora, andiamo proprio subito al sodo se vogliamo. Supponiamo che questo, invece di essere un cubo, lo facciamo diventare, ecco cambiamo un po' le carte in tavola, non è più un cubo ma diventa una sfera. Se vedete tutti farlo diventare una sfera, semplicemente basta cambiargli le caratteristiche. Quindi notate che se andate da Firestone vedete che ci sono un sacco di caratteristiche che ha il vostro cubo originale, che nel frattempo è diventata una sfera. E questo, quindi vediamo un po' quante sfere si sono materializzate qui attorno a me. Allora, non è obbligatorio seguire tutti i passi che vi sto facendo fare, ma diciamo che aiuta da un po', diciamo quello che io chiamo la manualità. La manualità e anche mi permette a me di vedere quanto state seguendo. Come si trasforma in sfera? È molto semplice, basta andare sull'oggetto, si va in modifica, e poi sull'oggetto, dove dice oggetto, in origine voi avete cubo, ma se vuoi il posto di cubo gli mettete sfera, quello si trasforma in sfera, e potete anche farlo altre cose, se volete potete farlo tubo, diventa un tubo, potete farlo cilindro, diventa un cilindro, ma facciamolo sfera. Perché faccio sfera, tra l'altro la sfera adesso è venuta tutta un pochino tagliata, facciamo, cancelliamo e ricreiamo. Ok, quindi siete riusciti tutti a fare una sfera colorata, quindi mettendo la texture vuota, e il colore, gli potete mettere un colore, adesso io riprendo il verde ad esempio, poi tra parentesi, ecco, adesso in pratica stiamo facendo un mini corso di building, se volete farla anche un pochino luminosa, basta che sotto dove sia il colore accendete luminosità, e vedete che la nostra sferetta si diventa brillante, diventa come se fosse una specie di luce. Allora, cosa vi fa venire in mente una sferetta, che si illumina, che cambia colore, queste cose qua? Cosa potrebbe essere? Diciamo come, adesso che si sta avvicinando un periodo, potrebbe essere, diciamo, sì, una lampada, oppure anche una pallina di Natale, ma diciamo le luci di Natale, potrebbe essere una pallina di Natalizia sicuramente, ma quello che mi interessa a me adesso, ed è quello l'obiettivo che vogliamo fare in questo piccolo incontro, e di vedere come lo script possa aiutarci. Quindi vi insegnerò uno script che ha anche il naso di un cloud, perché no? Ecco, come facciamo a cambiare colore a questa sfera? Dunque, il modo più semplice per fargli mettere un colore alla sfera è quello di fare uno script che cambi colore alla sfera. Però, adesso io vi darò uno scriptino che permetterà di cambiare rapidamente colore. Così analizzeremo un attimino lo script e vediamo che cosa farà. Allora, lo script, per inserire uno script in un oggetto, si va sempre dentro la modifica dell'oggetto, come quando andate a fare la... a cambiare le caratteristiche, la texture, eccetera, e poi andate nella linguetta in fondo, quindi cliccate sul... a fianco di texture c'è il contenuto, e poi qui c'è una possibilità che dice nuovo script. Quando cliccate nuovo script, avete lo script che sta lanciando. Quando aprite lo script e fate doppio clic, vedete che c'è un... dunque, dalla riga 0 alla riga 6, sono sei righe. ecco, questo qui è il primo script che non fa niente. Ok? Questo script che non fa niente, adesso lo trasformeremo in uno script che... che cambia colore. Dunque, lo script... ma lo vedete sullo zoom? sulla mia... idromela? Mi vedi sullo zoom? Sì. Sì? No? Sì. Allora, lo script in origine non c'è, quindi... adesso faccio che... cancello lo script. Quindi, in pratica, quando voi andate... quando voi... seguimi un attimo sullo zoom, vedrai che se io faccio il tasto destro modifica e poi vado nel contenuto, qui non c'è lo script, ma se tu clicchi su nuovo script, che c'è subito in alto, c'è proprio scritto nuovo script, compare uno script. E oltretutto, in chat ti compare la script, object script running. Quindi ti compare il nuovo script. Lo vedi? Sì. Direi di sì, perché vedo Hydro script running. Poi, se tu fai doppio clic su questo simbolo, vedete, lo simbolo del script è questo... questo foglio di carta con un verde e un rosso, ti viene questo famoso script che stiamo parlando... di cui stiamo parlando adesso. Ora, facciamo... La prima cosa che possiamo fare con questo script è quello di... Avete notato che quando parte lo script dice questa frase qua, script running. Se volete fargli dire una cosa diversa quando parte la prima volta, andate semplicemente qua sul vostro... questo lo chiamo editor e gli mettete qualcosa come lo script di Salazar e parte. Punto, punto, punto. Fate attenzione a scrivere tutto questo nel... tra le due due piccetti, due doppie piccetti e poi fate salva. E a questo punto salvataggio, compilazione riuscito, salvataggio completato e qui compare lo script di Salazar parte. Quindi, chi non l'avesse mai fatto adesso ha preso uno script e ha fatto... l'ha modificato, quindi ha scritto uno script nuovo. ok. Fin qui siamo... cioè, mi seguite? Va tutto bene? Sì? Sì. Allora, adesso, visto che abbiamo scritto uno script, vediamo di descriverlo. Allora, io adesso ho saltato un po' di cose, voglio soltanto dirvi questa lezione la faccio io, ma in realtà abbiamo qua vicino anche Michelangelo, che ha già iniziato. Dunque, cosa devo mettere dentro lo script perché mi era saltato lo zoom? No, ce l'ho detto che al posto di quello che dice qua, dice LL60 e poi c'è una piccetta e qualcosa, dovete scrivere una frase personalizzata che dirà lo script quando farete il salva. Ok? Quindi, fra virgolette, attenzione a non cancellare le virgolette quindi la cosa ideale è quello di cancellare quello che c'è e poi qui scrivere. Di solito i programmatori si riconoscono subito perché quando fanno una cosa del genere lo chiamano Hello World o anche Ciao Mondo. Quindi il Ciao Mondo dei programmatori è tipicamente sono io che smicchiamo ecco, fate attenzione a mettere il nome il nome dell'oggetto non object ma diciamo Salazar così così quando ok? contenuto nuovo script Hello World salva ok, quindi adesso vedete Salazar Hello World ok, adesso il vantaggio di aver messo il nome al vostro cubo la vostra sfera e che man mano le cose il vostro script vedo chi è che parla e quindi possiamo discuterne un attimino ok? Allora adesso vedremo vediamo un po' se mi viene facciamo un piccolo scriptino quindi andiamo sempre questo qua nuovo script tra l'altro anche questo script abituatevi a cambiare sempre il nome di tutto ciò che fate in modo tale che sia facilmente individuabile questo qui diciamo lo facciamo cambia colore ad esempio cambia colore allora il cambia colore anzi più che cambia colore facciamo imposta colore verde sì sì allora facciamolo faccio vedere il nome dell'inizio nuovo script nuovo script quando vado dentro c'è scritto script running e al posto di script running ci metti quello che vuoi ok? vabbè in realtà prima magari del cambio colore allora innanzitutto voglio solo capire se voi mi avete seguito fin qua ci sono problemi a fargli dire lo script quando parto una cosa piuttosto che un'altra direi di no ora oltre a dire vedete qui ll6 vuol dire dici cioè parla dici quindi al posto oltre a dire ll6 vediamo un po' se riuscite ad aggiungere questo comando qua che si chiama ll7 text vediamo un po' ll7 text e non mi ricordo ecco tra l'altro ll7 text è un comando così come ll6 uno dei trucchi dei programmatori che come me non si ricordano mai a memoria come funziona un comando questi sono dei comandi ll6 è un comando che fa dire una certa cosa che è quello che vuoi noi oltre a far dire qualche cosa gli mettiamo anche un titolo che comparirà sopra al nostro oggetto e questo titolo si imposta con ll7 text però visto che vuole un po' di parametrulli che io non mi ricordo mai se io metto il cursore sopra la parte rossa e poi lo lascio fermo un attimo vedete che compare quel ll7 text string text vector color float alpha allora quelli sono i parametri che sono tre quindi questo comando vuole tre parametri e noi la cosa che ci interessa di più è il primo parametro e il primo parametro per noi sarà ciò che vogliamo che compaia scritto sopra poi c'è il colore con cui vuole che compaia e poi vuole un numero e il numero dice quanto fievole è la scritta cioè se deve essere una scritta che si vede anche bella diciamo chiara oppure una scritta trasparente diciamo che per i nostri per i nostri fini voi scrivete ll7 text aperta tonda e poi gli mettete un po' come prima abbiamo messo tra parentesi gli apicetti e gli mettete ad esempio sala zara che è il mio nome poi gli dovete mettere un colore e il colore adesso imparate la memoria lo mettiamo minore minore lo sapete tutti trovare sulla vostra tastiera e gli scrivete questo 1,1,1 che adesso sappiatelo per scienza infusa 1,1,1 vuol dire bianco poi tra poco ve lo spiego un attimino quindi 1,1,1 quindi praticamente scritto così vuol dire scrivere sopra il mio cubo la scritta sala zara e poi gli dico 1 per dire che è bella vivida quindi sono tre parametri quindi gli mettiamo una scritta un colore che in questo caso è minore numero virgola numero virgola numero maggiore e poi un numero che indica quanto forte che gli mettiamo 1 imbaratelo un po' a memoria per adesso poi man mano poi lo capirete secondo me ma se fate salva dovreste vedere comparire sopra il vostro cubo la scritta che gli avete detto di visualizzare non so se devo ridire questo pezzo se vi è abbastanza chiaro chiaro qualcuno siete riusciti a far comparire il un 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 testo ok allora quello che voi dovete fare è quello di andare idromela mi vedi innanzitutto hai capito cosa andiamo cominciamo con idromela idromela tu lo script ce l'hai e mi vedi e mi vedi sullo schermo sì allora io sono andato sulla sono andato su dove era scritto LL6 quello c'era già scritto e poi lì ho fatto invio cioè ho aggiunto una riga nuova e poi nella riga nuova gli ho scritto e tra l'altro dovete scriverlo esattamente come lo sto dicendo quindi LL minuscolo 7 con la S maiuscolo e poi text con la prima T maiuscolo e se lo scrivete bene compare in rosso lo vedete e poi fate aperta parentesi dovete proprio copiare questa cosa qua quindi mettete una scritta qualunque finite le virgolette fate virgola mettete proprio copiate esattamente 1 virgola 1 virgola 1 attenzione a fare 1 e non L perché sennò si arrabbia e poi mettete ancora 1 ecco copiate un po' quello che ho scritto io e poi ancora il punto virgola finale allora in pratica io questo script che sto facendo ve lo scrivo anche qua in chat così nel caso lo potete ricopiare ok vedete che l'ho scritto qua in chat allora in chat per copiare della chat sapete come si fa? sì appunto per quello che voglio dirti io te l'ho scritto in chat così tu lo copi della chat e te lo riscrivi e poi vediamo che cosa praticamente fai ctrl h per vedere tutta la chat e poi vai a selezionare da default graffa non so se mi vedete in zoom quindi vado praticamente ho fatto ctrl h dunque idromela fai una cosa segui seguimi quello che sto dicendo fai ctrl h idromela tu sai lavorare in word sai scrivere un documento giusto? ok quindi copia e incolla li sai fare quindi quando fai ctrl h vai a prenderti proprio dal default fino alla graffa chiusa queste tutte quelle cose fai ctrl c e poi vai nel tuo nel tuo editor e fai ctrl a cioè selezioni tutti fai ctrl v e ci metti il script c'è tutto c'è tutto dal default fino alla parentesi alle due parentesi graffa e così ti sei ricopiata lo script dalla chat al tuo script fai salva e dovrebbe andarti allora quelli che vedono male il mio schermo a parte che in realtà il mio schermo è cioè se sentite anche quello che dico dovrebbe aiutarvi nel senso che voi in pratica tutto quello che dovete fare è soltanto sostituire dentro l'editor quello che io avevo scritto in chat quindi in chat io ho scritto delle cose e voi per prendere quelle cose dovete fare ctrl h ctrl h che serve per aprire la finestra della chat e poi una volta avete fatto ctrl h andate a cercare lo script adesso ve lo rimetto di nuovo una seconda volta e poi di questo script andate a selezionare partendo però dall'ad di default 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 sì chat locale io non saprei dove chat locale sarebbe questo simbolo qua forse sì il simbolo dove c'è la 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 nuvoletta si è riuscito Idro a copiare lo script e metterlo sì ti è comparsa la scritta comunque notate che poi la registrazione la stiamo facendo quindi se per caso se per caso anche non siete riusciti a farlo mentre mentre lo facciamo insieme comunque stiamo registrando e quindi e quindi lo lo potete ritrovare poi nella registrazione che poi pubblico sul sito su google classroom ok allora una volta che avete fatto questa scritta per vederla dovete andare vicino tenete conto che se siete lontano la scritta non si vede quindi qualcuno forse non la vedeva per quello queste scritte si vedono avvicinandosi ok vedo ah c'è uno slide dei colori ok adesso sui colori ecco c'è da dire una cosa questi colori qua che vi ha fatto vedere credo Michelangelo sono i numeri da mettere per ottenere quei relativi colori quindi e sono i tre numeri che servono per ottenere quel valore io ho messo 1 1 1 e vedete che 1 1 1 è la prima che c'è nella slide e vuol dire bianco se voglio averlo per esempio prendiamo una cosa non poi tra l'altro questa cosa il colore facciamo il fucsia 0 941 quindi per cambiare colore basta che gli mettiate questi numeri qua 0 0.941 il primo numero il secondo è 0 071 la virgola si fa col punto quindi forse anche fate attenzione a quello e poi 0.741 0.945 e quindi si salva quindi salviamo e andiamo a vedere che la scritta sopra vedete che la mia scritta è diventata dello stesso colore della slide che ha presentato Michelangelo in realtà in realtà non c'è bisogno di impararsi a memoria quei numerelli basta sapere che quei numerelli stanno per la quantità di rosso di verde e di blu che in inglese si dice RGB cioè red green e blu quindi nel momento in cui voi volete un colore e sapete più o meno quanta percentuale di rosso di verde e di blu lo potete scrivere quindi se io qui metto ad esempio che c'ha il 50% di rosso c'ha il 70% di verde e c'ha il 30% di blu quindi metto 0,5 0,7 0,3 ottengo il colore che è corrispondente a quella a questa cosa quindi vedete che c'è un 0,7 quindi un colore tendenzialmente verdognolo se gli aumento la quantità di blu quindi a 0,3 la metto 0,5 dovrebbe cambiare il colore della scritta è venuto un verdognolo un po' più scuro se gli metto tanto blu 100% di blu ho ottenuto una scritta che è a metà strada fra il blu e altri colori insomma non saprei qual è una specie di indaco poi voi lo sapete meglio di me comunque vi è chiaro al di là del fatto che alcuni di voi magari non sono riusciti a scriverlo esattamente ma vi è chiaro il concetto di scrivere dei comandi che alterano delle caratteristiche del cubo quindi abbiamo una scritta che vabbè questa è la scritta ll6 ci dice semplicemente cosa dice lo script quando parte e l'l7 text è un comando che cambia la scritta sopra il nostro oggetto e poi in realtà ci sono anche tanti altri comandi per esempio ll7 color ll7 color cambia proprio il colore della nostra sfera e quindi anche qui non mi ricordo mai i parametri quindi metto il il cursore cioè il mouse sopra il nome del comando e poi apro la parentesi e vedete che vuole un colore e una faccia allora il colore ormai abbiamo capito che il colore si esprime con questo linguaggio quindi pensate di imparare un linguaggio straniero invece di dire un colore verde dovete dire 010 avete capito perché verde è 010 la prima domanda allora praticamente si sommano le tre percentuali visto che la prima percentuale è 0 è la quantità di rosso no il fatto che il numero centrale sia il verde è una convenzione quindi voi dosate un po' come fanno i pittori e quindi dovete dire quanta percentuale di rosso di verde è di blu mettete quindi così lo facciamo verde però visto che è già verde forse conviene metterlo vabbè un colore diverso 011 sarebbe una splice di viola quindi mettendo 011 mettiamo praticamente mischiamo insieme il verde e il blu quindi voi esatto allora se voi mettete 011 così e poi dopo qua mettete un al underscore sides vedete che quando lo scrivo diventa blu quindi all sides vuol dire che tutte le facce di questo cubo lo voglio fare di colore viola punte virgola quindi se abbiamo fatto tutto giusto quando salviamo vedete che ha cambiato il colore quindi la scritta dunque chi legge male ha provato a uscire rientrare da zoom allora faccio una cosa provo a spegnere la condivisione e a rifarla così magari potrebbe resettarsi così magari tutto adesso vedi gli altri no allora faccio lo stop dello sharing ok e poi provo a reshareare di nuovo ok allora adesso voi dovreste in teoria rivedere mi vedete di nuovo adesso che ho fatto il reshare il screen sharing sì e in particolare sì ti faccio il copian locale sì faccio allora faccio una cosa ti faccio il copian locale soltanto dell'istruzione così vediamo se riesci a usarla tra l'altro quell'LL set color il primo è LL molti lo scrivono come 11 che è un errore chi non sa scriptare e quindi ok sei riuscita a copiarlo questo pezzo LL set color retta bella colori che mi ha dato Michelangelo perfetto allora se vi da errore quando lo salvate è perché avete dimenticato qualche pezzo avete scritto male quindi io faccio adesso che fare di nuovo il copia di tutto lo script e ve lo metto di nuovo in chat e riprova perché a volte ricordate cioè cancella tutto lo script precedente e ricopialo da questo che te lo passo e riprovate ovvio che tutto questo giro dovete poi cercare di fare qualche piccolo diciamo compito a casa poi voi ti ha funzionato adesso facendo il copy and call sì ecco solo una cosa quando fate il script e vi da un errore in realtà lui vi dice cos'è che non gli piace ad esempio mettiamo che io abbia dimenticato un punto e virgola in questo caso vabbè io lo so che ho dimenticato il punto e virgola ma se faccio salva lui mi dice syntax error e syntax error vuol dire che c'è un errore ovviamente e vi da la posizione in cui ritrova l'errore purtroppo non è il punto in cui voi avete sbagliato perché voi avete sbagliato qua nella riga prima quindi quando vi da un errore andate sempre a ritroso quindi tornate indietro di 1 per vedere cosa c'era subito prima quindi in questo caso vi dice che c'è un errore qua cioè in realtà lui va indicato qua ma l'errore è nel carattere precedente non bianco e quindi praticamente è qua qui secondo lui c'è qualcosa che non va allora per correggerlo mettete il punto virgola e lo correggete altro esempio di errore è che non avete scritto all sides giusto quindi all sides magari avete scritto all sides tutto attaccato beh intanto vedete che non è più blu quando lo salvate lui vi dice vedete che qua vi dice all sides does not exist e quindi dice non esiste e quindi dovete correggere all underscore sides altro errore tipico aver dimenticato ad esempio volete scrivere 0 1 1 ma vi siete dimenticati di mettere il minore e il maggiore allora che in questo caso vi dà un errore in questo caso l'errore ve lo dà qua l set color perché dice che gli avete dato quattro cose e ne vuole soltanto tre no? quindi andate più o meno e dovete andare con un po' di pazienza a capire dov'era se dimenticate la virgola anche qui gli errori sono sempre molto creativi comunque qua la virgola vi dà un errore qua in fondo in realtà l'errore era qua e dovete capire questo se per caso mettete un'istruzione sbagliata tipo qua l l set color scrivete l l set color con la c minuscola vedete che non è più rosso un altro indizio che avete sbagliato e quando fate salva vi dice the name l l set color does not exist quindi dovete sempre fare molta attenzione a scrivere tutto correttamente una cosa giusto visto che stiamo vedendo visto che abbiamo visto tutto il queste istruzioncine vediamo ancora la sintassi ecco questa non ce la dobbiamo si dopo l l sempre iniziale mignoscolo ottimo trucco tutte le cose a dire sempre dentro il colore sempre dentro maggiore e minore più o meno nel senso che in realtà questo minore e maggiore per lo scripting è considerato quello che lo chiama vettore e i vettori in geometria quanti di voi sanno geometria? o l'hanno o insegnano addirittura la geometria? ce n'è qualcuno? o che conosce? un pochino nella geometria nello spazio tridimensionale un vettore a tre è dato da tre numeri ecco perché visto che noi rappresentiamo i colori con insieme delle tre componenti sì va bene le tre componenti del colore sono le tre componenti lungo gli assi rosso verde blu ecco perché si chiama vettore quindi qui i vettori sono tutte delle cose che hanno tre elementi dentro sì esatto anche tutte le posizioni si rappresenteranno con minore x y z quindi se volete muovere un oggetto verso una posizione che da voi è x y z con l'indirizzo 10 20 e 8 sulla vostra sim dovete usare un vettore per indicarlo invece il sì invece quello che si diceva prima tutte le scritte le scritte che volete far comparire devono comparire fra i simboletti che sono queste qua le le uffa doppie doppie opposte virgolette ecco scusate mi viene tra le virgolette virgolette doppie queste virgolette doppie che sono sopra il 2 nella anche qua se per caso sbagliate e non chiudete le virgolette se non chiudete le virgolette vi compare anche qua degli errori stranissimi però vedete che sono cambiati tutti i colori perché quando chiudete le virgolette vi aiuta a far capire che insomma dove sarebbe stato giusto aprire e chiudere le virgolette ogni istruzione deve chiudersi con un punto e virgola questo l'abbiamo più o meno visto prima tutti i comandi di scripting sono tutte più o meno uguali hanno l'all iniziale e poi hanno un'aperta parentesi e gli si dice cosa devono fare quindi si dà 1,2,3,4 parametri questi qui si chiamano parametri questo è uno 0 che è il parametro è l'all6 e poi il secondo parametro è la scritta da dire sul significato esatto poi lo vedrete anche con Michelangelo di queste cose qua mentre invece la cosa importante è che purtroppo è un veramente un dramma ma voi allora i punti virgole eccetera se volete ci sono dei manuali che lo fanno che lo spiegano ci sono dei siti io ho messo tra l'altro sul sito nostro un insieme di informazioni molto utili credo almeno spero che voi le considerate utili materiali utili per chi inizia e nel materiale utili per chi inizia ci sono vabbè ad esempio questo qui è un articolo che io ho scritto mio articolo che ho scritto nel 2012 in cui spiegavo se lo volete leggere magari vi metto anche il link qua così forse ci arrivate più facilmente ok quindi questo link però come avete visto l'ho messo in classroom quindi lo potete trovare in classroom prestare ti notate che io ero molto attivo come insegnante di scripting nel 2008 2009 quindi qua mi spiega tante cosette e poi ad esempio qui ci sono delle cosine vedete ci sono tre tre link dove in italiano spero che sia in italiano e apriamo uno e questo qui mi spiega cos'è il linguaggio lsl magari l'ho scritto anch'io questo fammi vedere history vediamo un po' chi l'ha scritto questo sì c'è l'azzaro questo qui l'avevo tradotto io nel 2009 quindi vedete che c'è c'è un po' anche la mia sì l'ho solo tradotto in italiano tra l'altro potrei anche averlo tradotto male ah qui tra l'altro è anche scritto male questa cosa qua il default bisognerebbe correggere comunque qui ci sono ci sono un po' di informazione ah se poi qualcuno mi aiuta a correggere il wiki questo wiki qua potrebbe essere corretto comunque un link qua spiega un po' di cosine spiega la sintassi che abbiamo visto poi c'è il secondo link che è un altro che credo che anche questo l'abbia tradotto io vediamo qui spiega tutto ci sono anche dei compiti ma secondo me una volta questo qui funzionava e poi hanno cambiato grammatica del tradotto in italiano da Salazar quindi l'avevo anche questo scritto io e poi vabbè altre cosucce che lasciamo ah qui ci sono tante altre cosette che è interessante comunque se voi andate a frugare nel materiale che ho messo nei materiali del corso avete una miniera di materiale e poi ho messo due lezioni che avevo fatto in Second Life anche questa nel mi ricordo quando l'ho fatto questa qui l'avevo fatta che dentro nel 2013 2013 e qui spiegavo le applicazioni degli scripting per fare cose abbastanza semplici tipo lll set to text eccetera però adesso andiamo avanti ci abbiamo ancora quanto vi ho steso finora su questi scripting ci sono poi un sacco di lezioni che ho fatto anche su Edmondo e ci sono anche tutti i video YouTube e tra l'altro ecco un'altra cosa che esiste è che io qui qui vicino tra l'altro se voi guardate sulla mappa sulla mappa vedete che qui ci vedete voi ma c'è una scriptlandia vedete che c'è questa sim che avevo fatto a suo tempo quando volevo fare un museo una sorta di presentazione di vari script e questo museo secondo me vale la pena poi magari possiamo organizzare un giorno per andare a farsi un giro in cui ho raccolto un po' di script che fanno cosette interessanti più o meno ai livelli che interessano noi una gita sì perfetto ma non stasera perché volevo ancora volevo ancora farvi vedere una cosa un paio di cosette prima di di finire e poi comunque noi siamo almeno io sono stanco da giornata giornata di di lavorone anni allora facciamo voglio farvi vedere un'altra cosa ghiotta e cioè fate tornare il vostro il vostro la vostra sfera fatela tornare cubo perché lo facciamo tornare cubo perché voglio farvi vedere una cosa carina quindi diventa cubo ok adesso la facciamo ruotare quella rotazione è una di quelle cose che c'è uno scriptino che lo fa che è equivalente a quelle che abbiamo visto adesso è un po' ruota rotazione sì e tutto allora ah sì però questo qui facciamo rotazione ah ok facciamolo questo mi piace di più ok vedete questo qui è uno script che possiamo fare che vi metto in in chat no adesso non ho fatto nessun passaggio adesso stavo cercandomi uno script non preoccupate era solo perché volevo trovarlo allora il per farlo ruotare occorre mettere anzi facciamo che mettere soltanto questa cosa qua ok questo ll target omega no sempre l'ho aggiunto all'insieme di comandi che stiamo dando a questo questo cubo adesso salvo un attimo e vedete e vedete qual è l'effetto vedete qualcosa di strano nel mio cubo sì sì vedete qualcosa di strano nel mio cubo ruota e sto lo sta ruotando in realtà molto lentamente ma se gli mettiamo un numero un pochino più umano penso qui invece di 009 gli mettessimo uno ecco adesso gira in maniera un pochino più umana ok e quindi questo è un effetto mi metto tutto lo script qua ll target omega e ovviamente ovviamente a voi magari non vi serviranno tutti i comandi ll6 ll7 text ll7 color ma vi servirà forse solo l'LL target omega ok quindi in realtà se il nostro vediamo quanti cubi ruotano se volete farlo ruotare più velocemente basta che cambiate questo numero quindi al posto di uno gli mettete 10 e vedete che ruota molto velocemente se invece al posto di 10 gli mettete meno 5 il cubo ruota dalla parte opposta ok ah dunque no p serve p sarebbe pi greca e sarebbe il controllo anche lui la velocità di rotazione e indica sostanzialmente il gate credo che anche che il fatto che sia p sia anche errato probabilmente basta un numero qualunque però giusto possiamo anche mettergli probabilmente uno giusto per capirsi insomma quindi in pratica ecco la spiegazione del primo vettore che vedete è l'l target omega indica l'asse attorno al quale deve ruotare quindi 001 vuol dire che deve ruotare attorno all'asse per farti girare le cose sì se trovate difficile magari sentitemi in zoom e provate a seguirmi invece qua dentro e fare o comunque adesso poi lo guarderete e poi facciamo un po' classe capovolta allora la cosa interessante è quel vettore che avete visto in l l target omega che è questo scusate allora quel numero questo qua indica che praticamente deve ruotare attorno all'asse z x y z se invece gli mettiamo se invece di 001 gli avessimo messo 111 lo faremmo ruotare sbieco sbieco vuol dire ve lo faccio vedere vedete che ruota tutto sbieco perché ruota magari lo facciamo ruotare un pochino di meno ecco quindi ruota attorno a contemporaneamente attorno a tutti i tre assi notate che questo adesso non posso si ogni tanto impazzisce però la cosa fondamentale di tutto questo giro è che teoricamente io potrei anche prendere questo cubo dunque il tuo non ruota ha dato errore a Maranta e hai fatto esattamente questo script qua che questo script qua e prova a riscriverlo a volte può darsi che con un po' di prova a cancellarlo almeno solo nell'editor e riscriverlo ah se non ruota potrebbe essere che non ruota perché l'avete toccato sì devi chiudere la finestra di editing perché altrimenti la finestra di editing è aperta lo blocca ok ok allora l'abbiamo visto quindi il cubo spostarsi fare tutto questo questo lavorio qua e vediamo invece l'ultimo pezzettino che è proprio quello che ho messo nel Google Classroom cioè in Google Classroom ho messo uno script vediamo un po' se riesco vedete 13 novembre ecologia dello scripting adesso poi vi spiego un attimino meglio cosa intendo per ecologia dello scripting prima di lasciarci comunque mettete allora qui dovete fare due cose prima di tutto dovete colorare il cubo e per colorare il cubo vi ho dato un link questo che se cliccate vi va in un sito dove ci sono tutte delle tavolozze di colori ci sono due, quattro, cinque colori sparsi e sono una serie anzi ce ne sono migliaia di tavolozze di colori che hanno proprio tutto un loro sono delle palette di colori che vanno più o meno d'accordo fra di loro che hanno un nome quindi cliccate su una di queste palette la salvate quindi salvate l'immagine il link tra l'altro forse conviene che ve lo scrivo anche in chat perché alcuni non riescono a seguirmi avete detto quindi se voi andate su questo sito ok e andate e cliccate su una delle palette e poi la salvate salvate diventa un'immagine png e quindi sono tavolozza rossi poi questa questa immagine la caricate qui dentro dentro craft sapete come si fa a caricare un'immagine col browser si fa ctrl u io faccio facendo ctrl u compare una finestrella che permette di andare sotto download di caricare tavolozza rossi ok a questo punto tavolozza rossi la caricate con zero cib questa cosa e vi compare nel vostro nel vostro a questo punto se voi prendete il vostro cubo sapete mettere una texture su un cubo comunque per mettere la texture nel cubo fate edit del cubo solito andate nel nella texture cioè dove proprio la linguetta texture e qui magari gli ho messo il colore blu quindi cancellate il colore gli mettete un bianco meglio e poi ci mettete la tavolozza dentro ci spostate proprio dentro il texture la tavolozza rossa in questo modo vedete che abbiamo messo i cinque colori sul cubo vediamo un po' quanti di voi riescono a scaricarsi le tavolozze si 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 può colorare con tramite script solo una faccia basta fare un ll set color però io adesso vi faccio mettere questa texture qua perché adesso voglio farvela vedere lampeggiante però prima di tutto volevo farvi fare questo giro cioè di andare sul sito prendervi una tavolozza e sistemarla su tutte le facce del cubo come scarichi la tavolozza ti ho messo un link si adesso lo script lo rifacciamo quindi magari fate un altro cubo separato ok fate un secondo script separato e comunque da là da quel link fate il click sulla paletta e poi ve la salvate come immagine e poi infine ve la fate l'upload dell'immagine su craft spero che lo sappiate fare ho visto qualcuno di voi che l'ha fatta se non ve la fa fare ve la do io la tavolozza vediamo se riesco a passarvi la tavolozza quindi facciamo la tavolozza condividi si riusciva a farle tutte vero? sembrava che ci fosse un modo per farlo tutti forse devo fare no ah sì così no vicino a me vicino a me Amaranta Verino Ugogelli seleziona ok quindi adesso in teoria ve la dovrei aver passata a tutti avete ricevuto la tavolozza quindi chi non è riuscito finora a scaricarla dal sito prende prende questo colore va in modifica del cubo e lo sposta dall'inventario lo sposta qui dove è seguito texture nella linguetta texture del cubo e lo sposta nella texture bene a questo punto io vi direi lo script lo cancellate anzi cancellate soltanto il pezzo oppure aggiungiamo aggiungiamo in coda facciamo tutto insieme tranne il set color set color che ci disturba perché lo farebbe verde allora per qui faccio un commentino nel senso che metto metto barra barra per dire che quell'istruzione non la voglio però la voglio tenere per vederla e poi in fondo ci metto l'istruzione che abbiamo nel sito script lampeggiante e l'istruzione è questa ll set texture questa qua questa ll set texture che vi faccio vedere e ve la metto qui però ve la metto anche ce la metto nello script e quindi a questo punto se faccio salva quello che si ottiene è che a questo punto il mio cubo gira ruota eccetera e soprattutto cambia colore lampeggia allora lo script ve lo faccio di nuovo vedere e ve lo scrivo ok ve lo metto in chat così potete lavorarci sopra ecco vedete che c'è quel barra barra la doppia barra vicino al set color e quella doppia barra serve per disabilitare la riga corrispondente ok allora a questo punto vi dirò una cosa che sapete tutti che sapete tutti che su OpenSIM gli script sono un po' una cosa che meno si usano e meglio è non so noi vi insegniamo a fare gli script ma gli script sono un po' il dramma di OpenSIM nel senso che se per caso abbiamo una sim con 200 script dentro la sim rischia anche di crashare o di non funzionare bene ospevate no questo che gli script sono molto pesanti allora la cosa interessante di questa cosa di queste proprietà che abbiamo cambiato qui con questo script che avete visto è che in realtà questo script una volta che è partito che ha messo il colore ha messo la rotazione ha messo tutte queste cose può essere anche cancellato cioè se io vado dentro l'oggetto e poi faccio cance e gli tolgo lo script in realtà l'oggetto continua a girare continua a averla scritta continua a lampeggiare pur non avendo nessun script dentro quindi questo se volete è una sorta di miracolo no? cioè abbiamo una specie di effetto speciale che in realtà non occupa perché le proprietà che ha settato lo script sono delle proprietà che sono scritte dentro l'oggetto esattamente come il fatto di avere il colore o di avere di essere grosso in un certo in un certo modo oppure di di essere messo in una posizione della sim e queste cose vengono memorizzate e vengono mandate e sono rimangono le caratteristiche di quell'oggetto quindi anche quando lo script viene tolto le caratteristiche dell'oggetto invece persistono rimangono lì finché un altro script non gliele modifica ok? questo vuol dire che voi potenzialmente potreste avere e questo sarebbe l'esercizio che potrei darvi per Natale potete fare un insieme di luci lampeggianti rotanti eccetera eccetera addirittura voi conoscete i link set i link uniti cioè gli oggetti uniti potreste anche fare degli oggetti più di un oggetto vabbè comunque chi non li conosce non è importante vuol dire si possono fare anche delle cose molto molto sofisticate con tanti con tanti prime insomma con delle collane eccetera eccetera che fanno dei pianeti che girano otto allora se togli lo script e poi successivamente vuoi modificarlo basta che li rimetti dentro modificato quindi dovresti averlo salvato quindi in teoria tu prima di cancellarlo dovresti metterlo nell'inventario lo copi nell'inventario in modo tale che poi dall'inventario lo puoi rimettere sull'oggetto quindi non so se vi è chiaro la cosa che potreste fare e di fare il non te lo fa prendere che cosa nel senso vuoi fare un prendi cioè tasto destro prendi e forse non è il tuo se io faccio il prendi del del mio dovrei riuscire a prenderlo ma ti dà un errore può dare se c'è un pochino di lag locale da te magari riprova a fare queste prove quando poi c'è meno gente ok allora io direi per stasera vi ho fatto vedere un sacco di cose vi ho dato anche un compitino che potete fare per Natale di un albero di Natale con le palline le luci lampeggianti senza script dentro alla fine e poi voglio soltanto dirvi gli incontri li facciamo una volta in due settimane e i prossimi incontri almeno i primi sicuramente ma comunque li sta organizzando adesso non so se qui è ancora presente o si è annoiato Michelangelo vuoi dire qualcosa per dire quello che vuoi fare perché lui tra l'altro sta lavorando sodo oltre che sull'escape room ma anche sul cane robot e altre cosine se vuoi dire due cose così io sì ok niente dalla prossima lezione entriamo sempre più nel vivo degli script in particolare nella prossima lezione che credo sia tra due settimane a mano e il giorno vediamo un attimo il calendario dovrebbe essere il giorno 27 secondo 27 sì quindi faremo un cane robot e quindi vedremo ancora altri eventi oltre lo sit-entry e vedremo qualche funzione una cosa che vi voglio invito a fare un'idea che mi è venuta così magari procuratevi un quadernetto per che magari tutte le funzioni che incontreremo sia nella prossima lezione che nelle lezioni successive potrete segnarvele e anche quindi scriverle a fianco delle piccole spiegazioni così qualora vi dovessero servire le avete sempre a disposizione anche se poi c'è online il wiki di Second Life dove si spiega tutte le funzioni però magari avere questo piccolo vocabolario con delle funzioni che potrebbero essere utili per varie attività potrebbe essere anche utile quindi prossima lezione vedremo come fare questo cane robot che fa una serie di cose a seconda di come si interagisce insomma questo è il programma per la prossima lezione ti do la parola sì tanto ben finita e volevo tanto dirvi che visto che già il cane robot non è proprio uno script iper semplice se avete tempo di guardare quei link che vi ho messo dove si insegnano degli script più semplici per partire può essere utile in modo tale da dunque per fare queste cose su YouTube c'è il mio canale io però ci sono un sacco di cioè devi fare un po' di ricerca in realtà anche nel mio canale perché ne ho fatte un bel po' comunque però non sono l'unico in realtà a fare queste cose il mio canale è questo qua che è Salazar Stenberg vediamo un po' se riusciamo a credo che sia YouTube slash ricordo se Salazar Stenberg no comunque lo pubblicheremo forse mi sembra che l'abbia pubblicato sul sul materiale del corso no c'era nello stream forse il adesso c'è un documento con il programma del corso se non c'è lo pubblicheremo adesso magari mi dà poi Michelangelo una mano ok comunque avremo avremo tempo tra l'altro se non siete già iscritti iscrivetevi a Edu3D Edu3D è il gruppo dove se volete e così potete chiedere su quel gruppo in Facebook informazioni sia a noi che ad altri colleghi del corso e poi vabbè cercheremo anche di fare questi corsi anche relativamente leggeri quindi dando pochi compiti quindi cercheremo di essere non pesanti insomma e detto questo ci vediamo quindi sul gruppo Facebook su Google Classroom e sicuramente fra due settimane ok Eva ha trovato il canale grazie user se la zero stand back allora detto questo io direi che stoppiamo il recording